Il Medioevo è Castel di Casio, ce lo raccontano Gabriele Cremonini e Luciano Bernardini in O Capitano, mio Capitano. Quello che vedete alle mie spalle è uno scorso suggestivo del centro di Castel di Casio, un comune dell'Appennino Bolognese verso la Toscana. Sindaco, entrando nel suo comune, la cosa che colpisse è Castel di Casio gemelata con Camaiore. Qualcuno direbbe, ma che c'è con Camaiore che è al mare? È una storia affascinante peraltro, risale al 1470 quando un nostro Capitano di Ventura Frediano della Capanna Moratti, una località di Castel di Casio, salvò Camaiore dall'invasione di Pietrasanta. Peraltro evitò un tentativo di corruzione, non volle ricompense se non una botticella d'olio che ogni anno l'amministrazione civica di Camaiore provide a farli avere. Ecco, quindi dal 2008 per ricordare quell'evento Camaiore e Castel di Casio si sono gemellati. E figurarsi se il nostro amico Gabriele Cremonini non si impossessava di una storia così, tra l'altro siamo qui sotto lampi tuoni e quant'altro. Un tempo medioevale, un tempo cupo, come era il Medioevo. No, la storia è affascinante perché soprattutto narrarla di questi tempi è una storia di onestà, di grandissimo rigore morale. Pensa che siamo arrivati a ricostruirla grazie al ritrovamento di questo documento ad opera di Luca Santini, che è un ricercatore di Camaiore, uno storico di Camaiore, che ha ritrovato questa traccia del donativo d'olio. Da lì siamo riusciti a ricostruire tutta la storia. Allora anche la festa medioevale di quest'anno è stata intitolata, ha preso il titolo dal libro che abbiamo scritto, O capitano, mio capitano, perché poi non va dimenticato che narriamo storie di capitani, non solo di questo capitano frediano, ma anche del capitanato della montagna, perché Castel di Casio per due secoli è stata la capitale della montagna bolognese, ovvero se uno aveva un problema a Monghidoro doveva venire a risolverselo a Castel di Casio. Dalla metà del 200 fino al primo quarto del 400 Castel di Casio era la capitale amministrativa, giuridica e militare. Le sentenze avvenivano fra l'altro il primo giorno del mese quando si teneva un importante mercato che coinvolgeva tutta la montagna e le strade per andare in Toscana passavano di qua. Casa Bentivoglio, come dire, una vecchia magione ritornata al suo splendore? Con una storia anche abbastanza singolare, perché è una vecchia casa medievale, risalente dal 200, poi acquistata dal Bentivoglio che andava a passare i bagni alle terme della porretta. La storia singolare è che questa casa è stata acquistata da Paul Magelli, che è un signore che si occupa di comunicazione, vive a New York ed è andato sulle tracce di suo padre, Biagio Magelli, che nel 1907 sbarca a Delis Island. Quindi lui è andato a cercare le tracce d'origine, ma la cosa bella è che un giorno sbarca alla Malpensa, prende un taxi e dice mi accompagni a Castel di Casio. Il taxista non sapeva dalla Malpensa dove era a Castel di Casio, per cui le costa un pochino, non si preoccupi. La cosa curiosa, altra cosa curiosa, lui arriva nella piazza di Castel di Casio e in mezzo alla piazza trova una signora che sembra la sua copia conforme, non l'aveva mai incontrata, era sua cugina, si guardano e dice ma un momento, questa parlava solo italiano, lui parlava americano, ma alla fine si sono intesi e si è innamorato di questo posto, di Castel di Casio, di questo borgo medievale e alla fine ha comprato una delle case più belle che c'erano, spendendo un patrimonio in un restauro straordinario che avete modo di vedere in queste immagini, peraltro. Ecco, architetto, il restauro non è una cosa semplice mai, però mi sembra che qui l'idea fosse quella di restituire questo luogo al suo passato per portarlo sul presente. Sì, questa è una casa importantissima perché è una casa che è rimasta preservata nelle sue strutture e nei suoi spazi originali. Purtroppo tante case della valle sono state rovinate nel tempo, divise, frazionate. Questa casa ha mantenuto la sua carattere di unitarietà e questo era il punto da cui siamo partiti. Per esempio non l'abbiamo pensata come una casa che doveva diventare una specie di ostello, foresteria con camere, bagnetti, spazietti, eccetera. Sono state restaurate le stanze nella loro unitarietà, nella loro bellezza e quindi mantenendo una testimonianza del passato prestigioso di questo edificio. Sindaco, allora privato può essere anche bello? Sì, può essere anche bello. È bello e soprattutto Castel di Casio ha avuto un segnale molto positivo dall'emigrazione. Abbiamo sempre visto l'emigrazione che ha coinvolto queste zone nel primo dopoguerra come un elemento negativo. Ecco invece c'è un fatto positivo, il ritorno di Pol Magelli che restaura così questa acquista e restaura questa abitazione. Noi siamo sulle tracce anche di un altro americano e di altri americani che sono senz'altro interessati ad altre case qui a Castel di Casio, altrettanto di pregio. L'augurio è che si concluda presto anche un altro acquisto per casa Nanni, casa Bertacci che è una delle case più vecchie di Castel di Casio per poi recuperarla e renderla agibile e quindi visitabile e anche se poi in mano a un privato. Però la cosa che intanto noi faremo è che ristruttureremo la piazza. Noi abbiamo in programma già dal 2012 un intervento per pavimentare con pietra la piazza perché vogliamo davvero valorizzare il borgo medievale come Dio comanda. Inoltre dalla prossima primavera vogliamo nella piazza ritornare a fare il mercato dell'antiquariato e un mercato di bambini. Sindaco, un ritorno alla Capitanata? Sì, ecco qui ho l'occasione per comunicare ufficialmente che abbiamo rifatto la pace con Vergato Vergato è la sede del Capitanato della Montagna dopo Castel di Casio, dopo due secoli qui a Castel di Casio ebbene ci avevano preso il simbolo del cinghiale, abbiamo litigato per tanti secoli e adesso con la Sandra, sindaco di Vergato, abbiamo rifatto la pace. Lo annuncio in diretta perché è un evento straordinario. Piazza permettendo, e speriamo che stia ferma, Gabriele approfittiamo anche per far vedere questo meraviglioso giardino che è stato antico. Sa di Medioevo, anzi di profondo Medioevo, poi come ogni giardino che si rispetti, anche qui, sai nei paesi ci sono storie di tesori, di fantasmi, c'era il suo bel fantasma. Esattamente si avvertiva la sua presenza lungo quel muro e dentro quella casa che sta per essere recuperata. Il proprietario precedente di questa casa qui ha ammesso, ed era un medico, di non averci mai dormito perché quando ci ha provato avvertiva delle presenze inquietanti. Dopo aver scomodato un capitano coraggioso, di ventura, onesto e vincente, Gabriele ha pensato bene anche di andare a disturbare qualcosa che riguarda, come dire? Dan Brown? Non lo volevo dire perché mi sembra una cosa talmente lontana. È il codice da Vinci. In realtà tutto ha origine da questa casa. Questa è casa Nanni, è una casa che risale al 200 e sulle pareti di questa casa si può leggere la storia degli anni che ci sono rincorsi. Qui nasce Gerolamo D'Acasio, che è un personaggio estremamente singolare, poeta, commerciante di pietre preziose, mediatore di affari politici anche. Lui, per farla breve, perché è una storia veramente avvincente, lui entra nel giro leonardesco. Leonardo è molto interessato a storie di pietre. Siamo tra il 1494 e il 1498, gli anni in cui Leonardo dipinge il cenacolo, e stringe amicizia con uno degli allievi del Leonardo, il Boltraffio, nasce un'amicizia per cui è probabile, il Boltraffio ritrae Gerolamo D'Acasio in varie fogge e momenti, come poeta, ma anche come giovinetto, come uomo di bell'aspetto ritratto in molti quadri. tant'è che quando nel 1500 gli sforza cadono e Leonardo è costretto a riparare a Venezia, il Boltraffio arriva a Bologna da Girolamo D'Acasio, che nel frattempo si era spostato da qua, da Castel di Casio, in strada maggiore a Bologna, angolo via Gerusalemme, strada molto nota a chi si occupa di politica. e quindi il Boltraffio, ospite del Casio, ottiene anche delle commesse attraverso Girolamo D'Acasio, tra cui la pala Casio, oggi a Louvre, in cui c'è un angioletto in cima di Pinto da Leonardo, che viene a riprendersi il suo allievo prediletto e sosta a Bologna, a casa di Girolamo D'Acasio. La nostra tesi, tutta da dimostrare, però molto probabile, viste le rassomiglianze, è che il cartone preparatorio del Giovanni, che nel cenacolo leonardesco, anziché, come dice Dan Brown, essere riferito alla Maddalena, secondo noi è riferito a Girolamo D'Acasio, ovvero fu Girolamo D'Acasio il modello per il cartone preparatorio del Giovanni del cenacolo leonardesco. Vediamo se Dan Brown risponde alla nostra piccola provocazione. Castel di Casio, dunque, abbiamo ricordato capitale della Capitanata, e questo voleva dire ovviamente una città fortificata. Provane sia questa torre che poi il simbolo di questo comune. È una torre piuttosto importante a designare un luogo che era piuttosto importante. Lì vedete c'è una parte delle mura anche, la torre era esterna alle mura, fra l'altro la torre è costruita a sacco, ovvero col muro esterno e di interno ben rifiniti, e in mezzo ci andavano a finire tutta una serie di detriti e di materiali di risulta anche. La torre viene retta verso la fine del 1100 dai maestri Comacini, che erano un po' quelli che avevano il potere della pietra, e dalla metà del 200 ospita il Capitanato della Montagna fino al primo quarto del 400. Quindi il paese era un paese importante per la montagna bolognese e non solo. Questa qui si amministrava la giustizia e naturalmente era un presidio militare, anche perché le strade qua attorno erano infestate da briganti. Fra l'altro, interessante, la torre era alta 35 metri ed era coperta da un tetto in legno, poi successivamente si abbassò a 30. Ma perché? Perché a metà dell'Ottocento arrivò un forte terremoto. La torre ebbe un sussulto ma non accadde niente. Un anno dopo, esattamente un anno dopo, la torre di notte crollò. Come si può vedere. E fra l'altro la cosa curiosa è che questa torre non ha accessi alla base, ma si entrava attraverso una passarella posta a 15 metri d'altezza. Altra cosa molto bella, la torre riporta la misura del braccio bolognese, che era equivalente a circa 64 centimetri, e fra l'altro serviva non solo in termini costruttivi, ma serviva anche quando c'era giorno di mercato, il primo giorno del mese qua era giorno di mercato, quindi era anche il giorno in cui si amministrava la giustizia, a misurare le cose, tipo le stoffe, perché nessuno imbrogliasse sulle misure. Gabriele, abbiamo schivato il terremoto ma non la pioggia, sarà meglio che scappiamo? Eh, sarà meglio di sì, una pioggia medievale.